Vallo della Lucania lavora alla ripartenza. Nella giornata di ieri l'amministrazione ha riunito il tavolo di confronto con i commercianti inaugurato già ad aprile, un'occasione per interloquire con le due associazioni di commercianti presenti a Vallo, anche se non riuniscono tutti gli esercenti della cittadina, e per metterle in condizione di ricominciare grazie anche al supporto della Confesercenti provinciale e regionale con cui il Comune ha avviato una partnership. Si tratta infatti di individuare una strategia di ripartenza, ragionando giorno per giorno in previsione di quali saranno gli scenari futuri e andando oltre quelle che sono le semplici misure di sostegno che pure il Comune ha predisposto. Per quanto riguarda il commercio, infatti, l'amministrazione vallese ha procrastinato le scadenze di diverse imposte, ha previsto l'esenzione dalla TOSAP almeno fino al 31 maggio per il momento e con la possibilità, perché occupa il suolo pubblico, di potersi allargare senza pagare lo spazio aggiuntivo e ha istituito il Fondo Commercio nel bilancio comunale. Questo è costituito da tutti i risparmi avuti nell'anno dall'amministrazione, ad esempio le spese per la rifezione e il trasporto scolastico interrotti a causa del coronavirus o quelle per attività annullate. Tali cifre, una volta verificate, confluiranno nel fondo e verranno utilizzate per i commercianti in modalità da stabilire, ad esempio come aiuti sulla Tarsu oppure sotto forma di bonus. Creata anche una linea di credito con la Banca Tesoriera del Comune, 10.000 euro restituibili in due anni a tasso zero con gli interessi presi in carico dal Comune. Prevista poi, nella Convenzione, dopo i due anni, la mutualizzazione dell'eventuale credito. Stiamo cercando di intervenire, ha detto l'assessore Jenny De Cesare, per garantire un minimo di liquidità ai commercianti, ma soprattutto per individuare delle strategie concrete anche in un'ottica di territorio che vada oltre vallo. E infatti l'incontro di domani con le casse rurali vedrà anche la partecipazione del presidente degli albergatori, Felice Merola, per ragionare in termini più ampi. A vallo al momento i commercianti intanto riprendono pian piano a lavorare. Al momento hanno aperto quattro pizzerie, due laboratori di pasticceria e alcuni bar. Il cilento ce la può fare, ha detto De Cesare, bisogna spingere sui consumi sul territorio. Acquistiamo a casa nostra e aiutiamo le nostre attività.